È una trentina d'anni che si svolge questo grande carnevale a Montecchio di cui nessuno sa niente a Pesaro ma in realtà a Montecchio è una tradizione molto bella. Ci sono un sacco di carri, ancora qui si fanno, un sacco di mascherate, tutto frutto del lavoro volontario di tante persone, tanti genitori, dei bambini del catechismo che i coordinati dalla parrocchia, dai responsabili della parrocchia di Santa Maria Assunta per tante sere hanno lavorato insieme anche ai loro ragazzi per tutto questo, per una festa che riunisca tutti nella gioia di stare insieme e anche nel non prendersi troppo sul serio. Montecchio è il cuore di un'area di oltre 50.000 abitanti come cerco sempre di raccontare che riguarda più comuni ma è una piazza importante, qui siamo in Piazza della Repubblica vicino alla chiesa che è una chiesa che è un punto di riferimento per tutta questa vallata è un luogo anche di divertimento, insomma c'è stato un periodo di un paio d'anni con il Covid che le persone erano costrette forzatamente di stare a casa oggi sono le famiglie, sono le persone giovani, sono i carri che hanno lavorato non ha paragoni con altri carnevali in giro per l'Italia però c'è tantissima gente che partecipa si riapre una fase di socializzazione, di rapporti tra le persone e anche di comunità non ha paragoni con altri